In questa puntata di Vivere in Salute parliamo dell'attività dei caffè Alzheimer di Premosello e Verbania, il primo nei locali recentemente inaugurati, raccoglie pazienti e familiari per una serie di attività che abbiamo seguito con le nostre telecamere. A Verbania invece riflettò i puntati sul pomeriggio al museo per gli ospiti del Caffè della Memoria che hanno visitato la mostra Genius Loci a Villa Giulia. Abbiamo cercato di capire quali benefici possono trarre le persone affette da disturbi della memoria da questo tipo di esperienza. È partito da più di un anno l'Alzheimer Caffè a Premosello Chiovenda, da un paio di mesi ha una nuova sede qui proprio accanto alla RSA. Come è organizzato il lavoro? Il lavoro ha una distribuzione sul mercoledì pomeriggio dalle 2 alle 5. Noi usiamo un modello mutuato da un caffè Alzheimer di Milano, di Piazza della Repubblica, dove nella prima fase dell'arrivo c'è una divisione fra un gruppo che è costituito dai familiari, che con degli operatori esperti interni alla nostra struttura, quindi psicologo, fisioterapista, coordinatori, assistenziali, infermiere e anche personale esterno, infermieri specialisti di educazione sanitaria dell'Asla, geriatra, altre figure mediche nostre interne e esterne, danno delle risposte a una serie di quesiti che i familiari dei malati di Alzheimer hanno. Cercano di rispondere alle loro difficoltà, alle loro criticità della quotidianità. Mentre l'altro gruppo è quello con gli utenti stessi, dove degli operatori nostri specializzati, anche in questo caso utilizziamo OS, fisioterapisti, seguono il malato in attività animative, in attività di stimolazione cognitiva semplice. Dopo un certo tempo i due gruppi, preparate la merenda è sempre molto ricca e molto solana, con salumi, formaggi, si ritrovano nella sala congiunti e lì ci sono, oltre alla merenda, canti, balli e un momento di ricomposizione, diciamo, familiare. È possibile contattarvi telefonicamente? Sì, noi abbiamo un pronto Alzheimer, è un servizio, un telefono che risponde 24 ore su 24 e serve sia come polmone promozione dell'Alzheimer Caffè, ma anche serve come risposta a tutti i bisogni dei cittadini del VCO che si trovino in difficoltà con un congiunto che ha dei problemi, anche dei fatti acuti riferiti alla malattia dell'Alzheimer, quindi a disturbi comportamentali. Noi diamo una risposta tempestiva, a volte immediata, a volte nelle ore successive. Al momento quanti pazienti e quante famiglie seguite? Qui all'Alzheimer Caffè ci sono una dozzina di utenti con i loro familiari. In più continuano a partecipare all'Alzheimer Caffè anche familiari di utenti che sono mancati, che sono deceduti ma che ormai si sentono di questa famiglia. Non avevamo implementato e accelerato l'accesso di nuovi utenti perché avevamo una difficoltà di spazi. Fino a due mesi fa eravamo ospiti un po' della nostra palestra, un po' della sala consigliare. Adesso abbiamo uno spazio tutto nostro grazie al progetto finanziato dal Gal e quindi siamo in condizioni di offrire anche su più cicli servizio a tutti gli utenti che ne avessero bisogno e che chiedessero di venire. Noi apriamo tutte le settimane, adesso è il mercoledì, ma potremo anche ripetere l'accesso anche in un'altra giornata da settimana. Quindi qualora ci siano delle famiglie che ne hanno necessità, dei pazienti che ne hanno necessità, voi siete pronti ad accogliere nuove persone? Esattamente e noi al nostro telefono 0324 88 191 rispondiamo, diamo informazione, c'è un accesso, c'è uno screening fatto con una testistica operata da figure, da psicologi e un colloquio con il familiare. A questo punto poi la persona è inserita senza ulteriori indugi nel giorno stesso e è un servizio, sottolineo, ribadisco, gratuito fino al 31 dicembre grazie al contributo Gal, dal 31 dicembre in poi sarà garantito dalla RSA e quindi dal Comune di Premosello. Partiranno però anche nuovi servizi, in questo caso per gli anziani sani, di che cosa si tratta? Esattamente, abbiamo compreso, noi facciamo ogni anno un test cognitivo rivolto alla popolazione con asso mensana e abbiamo visto che nei partecipanti, che sono sempre tanti, un centinaio, c'era una richiesta di un'azione di prevenzione. Allora una vera e propria prevenzione assoluta sull'Alzheimer e sulle altre forme di demenza non esiste ufficialmente, ma sicuramente tenere in buon esercizio le proprie funzioni cognitive non può che aiutare. Allora abbiamo individuato nell'Università di Pavia, al Dipartimento di Neuroscienze, l'interlocutore appropriato. Con questo Dipartimento abbiamo firmato una convenzione che porterà i docenti qui a introdurre l'argomento e a fare una supervisione, il capo progetto è la professoressa Cavallini, saranno qui a Premosello in gennaio, inizierà tutto un percorso e fra la fine di gennaio e i primi di febbraio inizieremo dei cicli di attività di stimolazione cognitiva per l'anziano sano. Otto incontri che quindi si concluderanno entro la fine di marzo, primi di aprile. Gli interessati che cosa devono fare? Devono telefonare al nostro numero 0324 88191 e chiedere di poter essere pre-iscritti, anche questa iscrizione è gratuita completamente, pre-iscritti a questa attività di palestra della memoria. Su queste attività, come su quella del Caffè Alzheimer, collaborano anche un'associazione che sostiene la nostra iniziativa che è la Comunità Ossolana Familiari Alzheimer, che è costituita dai familiari delle persone che hanno avuto congiunti qua. E proprio fra i familiari spesso delle persone con l'Alzheimer nasce il dubbio, la perplessità, la preoccupazione che ci possa essere una ripetizione, un ritorno della malattia su di loro e quindi fare dell'azione preventiva è ancora più stimolante, anche scusate il gioco di parole, per loro. Qual è la peculiarità di questo Alzheimer Caffè? Gli Alzheimer Caffè, come lei sa, sono dei tentativi di dare una risposta alla patologia di Alzheimer immaginando degli incontri tra famiglie che si sostengono fra di loro, famiglie che poi incontrano degli esperti e ricevono anche delle indicazioni su come trattare al meglio il loro congiunto. La specificità di questo Alzheimer Caffè è nel fatto che è collegato strettamente con il nucleo Alzheimer della RSA, e cioè in questa RSA ci sono dei nuclei non soltanto, diciamo, di persone anziane in situazione fragile che vengono ospitate in particolari nuclei, ma anche un nucleo dedicato proprio a persone con Alzheimer. Allora, il fatto che questo sia collegato con un nucleo Alzheimer dà la possibilità, per esempio in questi incontri di Alzheimer Caffè, di avere attivi gli operatori che lavorano nel nucleo Alzheimer della RSA. Questi operatori sono persone che 24 ore su 24 vivono a contatto con le persone affette da Alzheimer. Quindi sono in grado di dare ai parenti, ai familiari che vengono qui, delle indicazioni e anche un sostegno psicologico molto particolareggiato, molto concreto, articolato, perché naturalmente hanno una conoscenza approfondita. Non è semplicemente una conoscenza specialistica, non è semplicemente una conoscenza certamente teorica, è una conoscenza molto pratica. Quindi questo è il primo elemento importante. Il secondo elemento, se lei ha notato anche nell'organizzazione dell'Alzheimer di oggi, dell'incontro Alzheimer Caffè di oggi, è che per un periodo di tempo, di un'ora e mezza, circa o due, gli operatori hanno a che fare direttamente con questi pazienti che sono condotti qui dai loro familiari. E quindi mettono in pratica, nei loro confronti, proprio delle modalità comportamentali, degli atteggiamenti che provengono dalla loro lunga esperienza. E quindi quando poi si ricongiungono insieme familiari e pazienti, chiamiamoli così, in realtà c'è la possibilità da parte dei familiari di osservare se particolari comportamenti degli atteggiamenti degli operatori hanno avuto degli effetti di rasserenamento, di rilassamento dei loro congiunti. Quindi, diciamo, c'è una capacità di provare concretamente, direi, delle modalità comportamentali che il familiare magari spontaneamente non prova. La vera difficoltà è questa di un familiare, che il familiare ama molto il suo congiunto, naturalmente. Quando è di fronte a una situazione così critica come l'Alzheimer, non lo riconosce più. Non lo riconosce più e non accetta l'evoluzione che sta avendo. Perché magari una donna, una madre, a un certo punto crede di essere una figlia. Ed è difficilissimo per la figlia vera accettare che sua madre sia diventata così. Questi, invece, operatori hanno più distanza sentimentale, affettiva. Quindi è più facile per loro vedere le cose in una prospettiva di evoluzione. E in questo senso aiutano i familiari. Il Caffè della Memoria entra in un museo per visitare una mostra, ovvero Genius Loci a Villa Giulia. Perché? È una nuova iniziativa di completamento un po' delle attività che fa il Caffè della Memoria, che oltre a riunirsi periodicamente in una sede piacevole, come quella del CIS, ha deciso di aprire anche all'esterno la sua attività, avendo attività che possono stimolare le sensazioni cognitive delle persone che hanno anche difficoltà a comunicare in altri modi. Come hanno accolto i vostri ospiti questa proposta? Direi con grande entusiasmo, perché oramai con la nostra attività triennale, che è cominciato tre anni fa su proposta della nostra fondazione Vita Vitalis, si fidano di noi e tutte le cose che proponiamo le accettano con buon grado. Inoltre, supportato anche da studi scientifici, noi siamo tra i primi in Italia a fare questa, diciamo, museoterapia, ma sembra che gli stimoli che dà l'arte siano molto utili per i pazienti affetti da questa malattia. Quali benefici possono avere questi pazienti da un'esperienza di questo tipo? Beh, l'arte ha dimostrato di avere dei importanti benefici per i malati di Alzheimer e ci sono proprio delle esperienze su visite a musei con malati di Alzheimer. Le persone con malattia di Alzheimer, nonostante la malattia, anche in fasi più avanzate, riescono ancora ad esprimere bene le emozioni. E quindi, essendo l'arte qualcosa che tocca le nostre emozioni, attraverso questa via, che non è quella della logica, che invece è più compromessa nella malattia di Alzheimer, riescono a tirare fuori, ad accedere a dei ricordi che altrimenti sarebbero nascosti dentro le persone, sarebbero impossibili da esprimere, da comunicare. E quindi questa è una prima valenza, proprio che agisce sull'aspetto cognitivo e quindi favorisce l'espressione dei pazienti. Però ci sono anche degli altri aspetti che sono importanti. Le visite a museo sono spesso fatte in gruppo. Le persone insieme possono quindi relazionare e possono avere l'occasione di parlare, di esprimersi. E questo fa bene alla persona. Può far parte anche di quell'approccio alla malattia che vuole valorizzare ancora tutte le capacità che sono presenti nella persona. Vuole sottolineare che, anche se è malato, la persona colpita da Alzheimer è una persona e ha ancora diritto a vivere in tutti gli anni in cui sarà accompagnato purtroppo da questa malattia, che spesso è una malattia lunga, che dura diversi anni, bisogna dargli l'occasione di vivere ancora dei momenti belli, piacevoli, significativi nella propria vita. Il caffè della memoria di Verbania, che ospita quindicinalmente malati di Alzheimer e le loro famiglie, è ripreso a settembre il suo terzo anno di attività. È promosso e sostenuto dal Consorzio Servizi Sociali del Verbano, dalla Geriatria dell'Asla VCO, dall'Associazione Familiari Alzheimer e dalla Fondazione Vita Vitalis. Le porte sono aperte a nuove adesioni. Attualmente questo avvenimento si svolge in due momenti al mese. Lo vorremmo raddoppiare, abbiamo già trovato i fondi per poterlo fare, quindi dal primo di gennaio il caffè della memoria si svolgerà tutti i lunedì pomeriggio. Altre esperienze cercheremo di fare, aumentando quindi le frequenze. La nostra disponibilità dovrà anche avvalersi di altre esperienze, che faremo sul territorio e magari altri musei, biblioteche. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslavco.it oppure scrivere a Vivere in Salute chiocciola aslavco.it indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.